a lorenzo codonio founder di lorenzo codonio macro advisors e anche professore del london school of economics buon pomeriggio e grazie per essere con noi buon pomeriggio guardi mi fa piacere che siamo in sua compagnia perché abbiamo parlato proprio con lei dopo l'ultima conferenza stampa di lagarde che ha confermato appunto un'accelerazione degli acquisti nell'ambito del pep come spiega allora questo grafico che immagino sta vedendo anche lei sì penso che sia difficile nel breve periodo valutare in pieno gli acquisti della banca centrale e delineare un trend la banca centrale si è impegnata a aumentare significativamente gli acquisti netti e sono sicuro che lo farà va detto che vanno valutate le condizioni di mercato le scadenze dei titoli cioè sono tante le i fattori le variabili che entrano in gioco in questa situazione quindi mi sembra un po prematuro stilare dei giudizi definitivi c'è l'intenzione questa è stata ribadita da parte della banca centrale di mantenere e anzi aumentare il grado di accomodamento monetario nel futuro prossimo quantomeno per contrastare queste tendenze verso l'alto dei tassi a lungo termine ecco invece per quanto riguarda la ripresa economica dell'eurozona quali sono le vostre stime innanzitutto e soprattutto dipendono quanto dalla campagna vaccinale perché stiamo tuttora vedendo delle problematiche legate naturalmente ad astrazenica e le nuove disposizioni le stime indubbio che dipendano in maniera fondamentale dalla campagna vaccinale questo non solo in italia ma un po in tutta europa e oserei dire in tutto il mondo la campagna vaccinale è quella che può permettere a molti paesi di riaprire sicurezza molti business che in questo momento sono chiusi e quindi aiuterebbe aiuta a riportare la crescita del pil verso la tendenza di fondo quindi secondo me tutte le previsioni che si fanno in questo momento sono condizionate ad una riappertura ad un percorso che si fa comunque sempre più significativo nelle vaccinazioni devo dire che gli ultimi dati non solo a livello europeo ma a livello internazionale sono molto confortanti perché sembra che nonostante il lockdown nonostante le difficoltà le economie si stanno adeguando stanno adattando alla situazione e soprattutto nel settore manufatturiero è in corso un vero e proprio boom una crescita molto sostenuta settore i servizi è molto frammentato ovviamente ci sono dei servizi quelli legati al turismo alla ristorazione eccetera che sono chiusi e lavorano poco in questo momento molto poco però altri stanno andando bene quindi è una situazione molto squilibrata se vogliamo molto disomogenea all'interno di vari settori e all'interno delle varie aree geografiche però nel complesso i dati stanno andando un po meglio delle attese devo dire sì assolutamente sì soprattutto negli negli stati uniti ma anche nell'eurozona questo è sicuro intanto le volevo leggere un'altra frase di robert holzman membro del board della bce che ha spiccato l'inizio di una fase di tapering entro il terzo trimestre di quest'anno questo sarebbe una decisione giusta un po prematura ma direi che è assolutamente prematura in questo momento a parte l'incertezza sulle vaccinazioni quindi sul sull'andamento della pandemia ma direi che anche necessario è necessaria una fase prolungata di ripresa economica per per consentire di poter dire che la ripresa è consolidata ed è sostenibile è ancora assolutamente prematuro non solo direi anche l'anno prossimo probabilmente ci sarà molta cautela nel nel fare qualsiasi tipo di modifica in termini di politica monetaria. Invece un altro argomento altrettanto interessante è la tassazione globale mi riferisco naturalmente alle tasse sia sui ricchi sui redditi più alti e non solo la tassa sulle aziende globale proposta da appunto da Janet Yellen già valutata durante comunque il corso della riunione del fondo monetario internazionale innanzitutto quale il suo parere potrebbe beneficiare di una tassazione globale l'Italia anche l'Europa naturalmente? C'è un grandissimo dibattito a livello internazionale stimolato direi soprattutto dall'Europa sulla tassazione del commercio internet quindi questo si inquadra in questo ambito va detto anche che questa è una tematica che va avanti da molti anni e portata avanti soprattutto dall'Ocse e penso che abbia fatto delle breccia in qualche in molti paesi ed è importante che in questo senso ci sia anche una grande apertura da parte degli Stati Uniti. Chiaramente gli Stati Uniti sono un paese cruciale se gli Stati Uniti decidono che è opportuno che prendano un'iniziativa in prima persona per uniformare e evitare fenomeni di evasione o di erosione delle basi fiscali in vari paesi beh questo è un passaggio molto importante molto importante perché sono gli Stati Uniti quindi un paese cruciale in questo momento ma molto importante anche perché vuol dire che a livello internazionale questa discussione matura sono maturi i tempi per prendere le iniziative, evitare effetti distorsivi, evitare che alcuni paesi si propongano come paradisi fiscali per locare alcune imprese e quindi dislocare basi imponibili verso alcuni paesi a scapito di altri. Però sarebbe secondo lei possibile una tassazione minima globale visto che comunque l'Europa già non riesce da tantissimi anni ad avere una unione fiscale? Questo è un bellissimo punto perché già anche all'interno dell'Unione Europea ci sono grandi differenze come sappiamo ci sono paesi che adottano regimi di tassazione più bassi di favore e questo è tollerato anche se ci sono stati molti tentativi in passato per superare questa fase. Se questo dibattito che è un dibattito interno all'Unione Europea venisse superato da un dibattito globale chiaramente questo metterebbe molta pressione su questi paesi per un adeguamento, per un livellamento anche all'interno dell'Unione Europea. Questo sarebbe molto importante, penso che in questo dibattito probabilmente l'Italia abbia da guadagnarci. Vorrei focalizzarmi velocemente anche sulla campagna vaccinale, tra l'altro oggi il Presidente del Consiglio Mario Draghi parlerà alle 18, terrà una conferenza stampa per tutto ciò che riguarda AstraZeneca perché ci sono nuove disposizioni adesso di non usarla per la vaccinazione degli under 30 che è molto diversa rispetto alle disposizioni solo da un mese fa, forse poco più di un mese fa. Visto questi cambiamenti, secondo lei il target di 500 mila vaccinazioni, che è il target del governo entro fine mese, è possibile o è troppo ambizioso? Non sono in grado di dirlo, però certo l'impegno del governo in questo momento mi sembra che ci sia soprattutto da un punto di vista della logistica, cioè mi sembra che sia stato fatto molto per fare in modo che non appena i vaccini saranno pronti si possano fare effettivamente le vaccinazioni. Quindi io penso che se arriveranno i vaccini forse questo obiettivo verrà raggiunto, anche se è un obiettivo comunque molto ambizioso. Penso che il grosso tema nei prossimi giorni sarà anche quello di mettere delle date certe sulle riaperture. Sappiamo che nessuno ha la sfera di cristallo, quindi nemmeno il governo, nemmeno Draghi sanno se saranno in grado di riaprire l'economia in un prossimo futuro, vista l'incertezza sui vaccini, vista l'incertezza sulle varianti del virus, eccetera. Però è importante che venga dato un quadro, un percorso per gli operatori economici, ovviamente condizionato dallo sviluppo in termini di vaccini e di diffusione del virus, però avere un quadro di riferimento a mio avviso sarebbe molto importante. Viste le proteste negli ultimi giorni, direi che questo è assolutamente imprescindibile e urgente. Quindi io penso che Draghi nei prossimi giorni lo farà, annuncerà delle date che saranno come date comunque non definitive, ma che sarà importante per dare una certezza, un orizzonte agli operatori economici. Infatti oggi le ha toccato un punto piuttosto importante, anche ha menzionato le proteste che erano addirittura anche violente, sinora non era accaduto in Italia, magari è stato, lo abbiamo visto a Londra, lo abbiamo visto in Germania, in Italia non era accaduto per il momento. Caravaglia oggi, il ministro ha detto che si potrebbe, si potrebbe, se i numeri lo permettono, riaprire il 2 giugno, però il 2 giugno è molto lontano e le assicuro che comunque a tantissime persone il CIG, ovvero la Cassa Integrazione, non è arrivata, anche se arrivate, se vogliamo chiamarle insufficiente, insomma già sta diventando molto difficile anche a livello sociale vivere con queste chiusure. A livello economico per quanto tempo possiamo permetterci ancora di rimanere chiusi con il settore dei servizi completamente distrutto, se vogliamo usare questa parola? Per questo è un costo economico e sociale senza precedenti. Perché si tende, mi scusi se ne interrompo, si tende a parlare del costo del Covid a livello di vita umane, però si tende a parlare meno, soprattutto per quanto riguarda il mainstream naturalmente, che si occupa meno di finanza, di economia, parlare però del costo economico che è altrettanto importante perché poi sono i giovani alla fine che non riusciranno a trovare lavoro perché i dati di IMSS sono inquietanti. Certo, assolutamente, la situazione è disastrosa ed è molto delicata. Va detto che lasciamo stare i violenti, lasciamo stare quelli che negano la validità dei vaccini eccetera, ma la protesta dei commercianti, la protesta degli operatori economici che hanno visto chiudere le proprie attività in questo momento come sacrificio di fatto per salvaguardare la salute pubblica, beh queste proteste vanno ascoltate, sono proteste che hanno la loro ragione d'essere e quindi penso che il governo debba innanzitutto ovviamente fare in modo che i quattrini arrivino e arrivino in tempo, ma anche dare una prospettiva a questi operatori. Dare una prospettiva vuol dire dare delle date che saranno date soggette, condizionate a un certo andamento dei contagi, ma almeno questo può dare una qualche certezza, una qualche prospettiva, una qualche speranza anche agli operatori che in questo momento stanno soffrendo in maniera molto forte. Grazie mille. A Lorenzo Codonio, founder Lorenzo Codonio Macro Advisors e al professore London School of Economics, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie, saluti.